Musica No Guardi Guardi che per favore abbiamo Guardi il capide Che ci sentono La cosa più belle che abbiamo qui è il nostro pancone Vieni qua Il pancone Il pancone è un maestrato Avevamo preparato uno spettacolo Guardate due fagioli al falconiero, questo è lo spettacolo che abbiamo preparato appositamente per lei, guardi qua, guardate che spettacolo, ci abbiamo messo tre anni per fare una cosa di questo. Qualcosa di bello? Come si chiama? Angelo! Qualcosa di bello? Qualcosa di bello? Qualcosa di bello? Scusi per l'inconvenimento. Ha visto lei mi ha mandato quella arma? Ha visto lei mi ha mandato un foglio dove c'è scritto che ho mandato un foglio dove c'è scritto che ho mandato un foglio, si ricorda no? C'è un problema, guardate, l'ufficio d'Asiaen.